Stiamo andando un po' a campione. Potete esattivare? Ma c'è? Non sembrare un po' un grado? Sì, sì, tranne uno di due cento è un po' carico. C'è che non ce l'hanno? No, no, che fanno un po' di colore. Se ce l'hanno fino adesso, diciamo, per centrare molto male.